Poi ci hanno detto che Hortensia era morta e ci hanno detto che era morta pure la madre era morto pure il padre insomma erano morti tutti ci hanno detto che erano morti tutti e allora ho pensato ma se sono morti tutti allora forse sono morto pure io e lì il cervello mi ha cominciato a girare e si trottava trottava e mi diceva se sono morto pure io allora sono morti tutti e perché è così che funziona e allora allora se sono morti tutti vuol dire che siamo vivi tutti e si perché è così che funziona se sono morti tutti allora che differenza c'è vuol dire che siamo vivi tutti e allora sta saliva che è questo sangue che ho in testa che è il mio sguardo che è che è il mio sguardo 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 che è il mio sgu Grazie a tutti.